Amici di YouTube, bentrovati da Marco Ligueri, è morta nelle scorse ore la nota cantante, in questo video parliamo di un lutto che ha colpito il mondo della musica, prima di farlo vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video, in questo video parliamo di una grave perdita che ha colpito il mondo della musica mondiale e con grande rammarico che il primo canale di Marco Ligueri annuncia il decesso della cantante americana Inger Lorry aveva 61 anni, era la leader della famosa band The Nymphs e tra i suoi pezzi non possiamo non menzionare Imitating Angels, Inger Lorry era un artista molto versatile oltre che cantante era anche pittrice ed aveva una spiccata passione per tutti gli animali veniamo all'attualità diciamo che Inger Lorry non ce l'ha fatta si è arresa nelle scorse ore ad un cancro contro cui combatteva da tempo ricordiamo una cantante molto popolare e molto apprezzata Inger Lorry scomparsa nelle scorse ore che possa riposare in pace amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul secondo canale di Marco Ligueri il canale dei video di cronaca seguitemi anche sul nuovissimo canale di psicologia, Marco Ligueri psicologia e crescita personale, ciao a tutti